bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le news delle ultime 24 ore parleremo ancora di fncs ne abbiamo già visto ieri il nuovo annuncio parleremo anche però di alcune cose molto interessanti scoperte durante l'evento che forse non tutti hanno avuto modo di controllare tra cui proprio la farfalla che sembrerebbe far qualcosa di strano prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e ancora un attimo lo sapete io ci tengo a farvi la domandina ragazzi leggo i vostri commenti qua sotto abbiamo capito il concerto è stato veramente meraviglioso ci è piaciuto a tutti anche a me è stato un evento veramente bello ma voglio farti un'altra domanda ma la parte più bella in assoluto del concerto qual è stata secondo te perché ne sono successe di cose in questo concerto nell'immagine che state vedendo c'è il momento in cui tutto prende fuoco in poche parole effetti spettacolari secondo me la parte più bella in assoluto è quando lui viene trasformato in neon e tutti i tubi di neon fluorescenti con lo sfondo totalmente nero ricoprono la mappa mi è piaciuta veramente tantissimo quella parte dimmi quella che è piaciuta di te a te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e manda le ciance andiamo subito ragazzi a vedere alcuni concept molto interessanti che stanno spopolando letteralmente su reddit nelle ultime ore il primo è proprio guarda caso quello che io vi avevo anticipato quindi per rifarmi a quello che vi ho detto prima proprio quella sarebbe la skin che è stata disegnata in questo concept e che però purtroppo sarebbe un po un casino da utilizzare nella modalità battle royale c'è da dire che abbiamo anche la versione t 3500 insomma un concept che forse non è proprio così un concept perché nell'ultima patch avevamo visto come c'era in realtà la skin di travis scott in versione cyborg e l'abbiamo vista anche durante l'evento sono molto curioso di vedere se la inseriranno oppure no c'è da dire che questa versione in neon è tanta tanta roba e c'è anche un altro concept che sta spopolando davvero tanto su reddit ed è l'astro surfing un emoto un ballo con ovviamente l'attraversamento che va a riprendere il momento in cui astro jack è seduto sul pianeta e intorno a lui girano dei pianeti sarebbe davvero una figata perché abbiamo già ovviamente l'emoto quella dove rimbalziamo ve lo ricordate sicuramente con la cosa dell'attraversamento perché no poter avere anche una roba simile un concept che apprezzo davvero tanto e vediamo se per caso le migliaia di persone che lo hanno commentato possano arrivare direttamente al team di sviluppo e magari averli in game andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché si parla di rarità si parla di fn cs ve l'avevo già fatto vedere nella video news di ieri il piccone delle fn cs è stato ufficialmente proposto come si dice presentato ed è disponibile solamente per un numero strettissimo di utenti si parla di 28 picconi in tutte le fn cs che stanno per arrivare ovviamente verrà dato ai primi 28 o 26 classificati il che questo lo porterebbe ad essere l'oggetto più raro in assoluto di fortnite perché non penso che ci sia qualcosa di bene mi viene in mente da reconexpert ma mi sembra di aver letto un po di tempo fa che sono più di 50 60 le persone che in tutto il mondo ce l'hanno quindi un piccone del genere che tra l'altro eppure carino oltre ad essere ovviamente un simbolo distintivo del skill del giocatore rimarrebbe anche come un oggetto assolutamente da collezione molto molto bello tanta tanta roba e siamo subito passati ad un altro argomento molto interessante che riguarda sempre l'evento sì perché in questo evento come vi anticipavo a inizio video sono successe tante cose molto curiose a partire ovviamente dalla mappa della season 1 che abbiamo visto in determinati momenti fino ad arrivare ad una cosa che già avevamo visto ovviamente mi riferisco al butterfly quindi alla farfalla e perché vi sto facendo vedere questa farfalla nuovamente perché alcuni sostengono che man mano stiano passando i concerti e più la farfalla si sta ingrandendo vorrei farvi vedere un video ragazzi che viene tratto dal primo show e dal quarto show guardatelo guardatelo un attimo come vedete questo è il momento in cui nel primo show entra nella farfalla chiamiamo rift e chiamiamolo un po come ci pare questo invece il quarto show e di nuovo la skin si avvicina e questa farfalla ragazzi vista così a me sinceramente ma sembra un pochettino più grande ora io non vorrei che fosse un effetto placebo quello di vederla ma scrivetevi nei commenti a secondo voi sono più grandi le farfalle perché se così fosse potrebbe esserci ancora una modifica un piccolo easter egg che noi non abbiamo visto e che epi games non ci ha voluto dire abbiamo però purtroppo una delle conferme che ahimè siamo costretti a leggere che arriva direttamente da due membri dello staff tecnico di epi games che appunto confermano ufficialmente che non ci sarà un ritorno della mappa del capitolo 1 su fortnite lo scrivono proprio direttamente su un post ufficiale ed eccola qua sostenendo che la mappa del capitolo 1 è rimasta ovviamente nei ricordi di tutti e rimarrà nel capitolo 1 ma loro stanno già preparando un una bozza una base per la mappa del capitolo 3 di fortnite il che vuol dire non è quantificabile neanche come tempo ragazzi perché siamo quasi nella stagione 3 del capitolo 2 abbiamo ancora sette stagioni e devo dirvi una cosa se fortnite veramente resistesse ad altre sette stagioni dopo passerebbero altri due anni come minimo un anno e mezzo abbondante anche due beh io alzo le mani perché non so davvero cosa dire tanta tanta roba non si è mai vista una roba del genere per quanto riguarda i numeri anche perché vi ricordo due secondi nell'evento di travis si è registrato un nuovo guinness world record sempre il primo era già di fortnite nell'evento di marshmallow ben 12,3 milioni di persone sono state collegate contemporaneamente vorrei comunque andare avanti con il prossimo argomento di oggi che è l'ultimo in realtà che chiude questo video dove alcuni sostenevano che un altro easter egg che potrebbe esserci è durante il deploy quindi quando stiamo scendendo dopo che si è aperto l'autobus guardando ve lo faccio vedere in un'immagine un pochettino più grande guardando la costa delle zone in cui non si può arrivare sembrerebbe che ci siano dei riferimenti nuovamente alla vecchia mappa e lì se non vado errato volerrebbero intendere che è il laboratorio della latrina sono semplicemente delle texture che sono utilizzate in poche parole non sono state cambiate quindi se per caso dovesse arrivarvi la voce arriva la vecchia mappa perché sullo sfondo no ragazzi non no sono clickbait ve lo posso già anticipare io semplicemente le parti in fondo sono sempre state quelle quindi le montagne le cose rimangono intanto si vedono ma non succede assolutamente nulla insomma ragazzi anche per oggi le news io ve le ho dette voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao grazie a tutti